La ciclabile dei Trabocchi, il percorso tra Ortone e Vasto, quasi integralmente separata dal traffico veicolare, lunga, quasi 50 km, ricavata sul tracciato della dismessa Ferrovia Costiera, anche nota come la Via Verde, oggi sul tavolo regionale, per la presentazione di un progetto sperimentale, finanziato con 200.000 euro. Al tavolo i sindaci del territorio dei Galli e dei gruppi di azione locale, che avevano fatto uno studio di fattibilità sulla rete cicloturistica, che poi la Regione ha finanziato. Cercherà di mettere a sistema e sperimentare una segnaletica che poi, pensiamo, verrà posta su tutte le piste ciclabili d'Abruzzo, e soprattutto una segnaletica che mette a raccordo la ciclovia adriatico, quindi la pista della costa dei Trabocchi, con le tante piste ciclabili censite all'interno dell'Abruzzo. Quindi creare un collegamento tra la pista, la ciclovia della costa dei Trabocchi, con le tante piste ciclabili del nostro interno, soprattutto della provincia di Chiedi, quindi retrostante la via dei Trabocchi. La prima tranche del finanziamento riguarderà anche la realizzazione di Green Hub, di avamposti di accoglienza per cicloturisti con dotazioni idonee. Nel progetto prevede anche l'installazione di una serie di ciclostazioni per ricaricare le e-bike, insomma è un progetto sperimentale che pensiamo che possa mettere ordine. La prima tranche del finanziamento riguarderà anche la realizzazione di Green Hub, di avamposti di accoglienza per cicloturisti con dotazioni idonee. Nella seconda tranche il progetto prevede la realizzazione di strumenti di informazione e promozione di tutta la rete, che saranno realizzate sull'intero percorso dal punto di accesso alla ciclovia dall'antico porto di Ortona, in prossimità del faro bianco e nero della Ritorna, fino all'ultimo Trabocco.